Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. Oggi abbiamo ospite sul nostro salotto il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, che è stato già con noi. Esatto, buongiorno, buongiorno a tutti. E che torna, è stato con noi già il 5 maggio, in una puntata pre-estiva, praticamente in una delle ultime puntate che abbiamo fatto prima della pausa estiva, e noi l'abbiamo voluto invitare di nuovo qua, anche perché ci ha incuriosito questa cosa che hai pubblicato sulla pagina Facebook, sia del comune di Cantiano, ma anche col rimbalzo sulla tua, di questa strada, di questa montagna che crolla. Ma come state facendo da quelle parti a Cantiano? Stiamo risolvendo un problema storico, un problema decennale, che metteva a rischio la sicurezza dei tanti automobilisti che quotidianamente transitano sulla Flaminia. Senza saperlo. Senza saperlo, esatto. Perché comunque è un problema che è legato a questo costone roccioso, che si affacciava sia sulla viabilità comunale, che di fatto ne aveva precluso l'utilizzo, quindi la vecchia consolare Flaminia, quella realizzata dai Romani, attualmente non era percorribile alla viabilità pubblica. E comunque però metteva anche a repentaglio la sicurezza della statale, quella che è diventata statale e per fortuna è tornata ad essere statale, perché la risoluzione di questo problema, che è un problema difficile ed onoroso, la sta affrontato finalmente l'ANAS, quindi sta dispiegando sia delle competenze tecniche, ingegneristiche importanti, ma anche economiche, per far fronte a questa risoluzione definitiva, che prevede appunto la rimozione tramite delle volate, quindi delle esplosioni che portano giù di volta in volta una parte di questo costone. Ne abbiamo già fatte tre, probabilmente ne serviranno altre tre. Il disagio è limitato perché in 15 minuti si risolve il tutto, quindi c'è uno stazionamento del traffico per 15 minuti. Però ecco, mi auguro, le due tra l'altro sono stamattina, mi è arrivata la comunicazione delle due prossime volate, che sono il 18 e il 22 prossimo di novembre, e mi auguro che poi ci sarà la definitiva, che potrebbe poi riportare all'apertura anche della strada comunale, quindi riconsentire il passaggio anche su quel tratto di strada lì. Avete fatto delle belle riprese, perché quello è un momento importante. A me è venuto in mente Zawrisky Point, nel quale c'è questa esplosione. Da film, sì, le abbiamo fatte, tra l'altro abbiamo anche partecipato, anche con una nota d'orgoglio, perché quando poi si portano a casa risoluzioni a problematiche storiche, mettendo in capo professionalità di alto livello, perché lì ci sono fochisti, volate, tra l'altro tutti i termini che ho imparato questi giorni, con la presa in carico dell'esplosivo, perché tu, tra le tante cose che deve fare un sindaco, ho dovuto anche prendermi in carico l'esplosivo, perché l'esplosivo non può rimanere senza un proprietario temporaneo, quindi nell'arrivo sul cantiere è il sindaco che come autorità territoriale si prende in carico anche questa responsabilità. Da un periodo hai avuto la responsabilità di questa dinamite che è lì pronta. Esatto, tutte le volte che arriva bisogna che noi lo prendiamo in carico per il tempo necessario ai lavori. Come sono fatti, come sono fatti, sono proprio i candelotti con la miccia. Io li ho presi in carico formalmente, non li ho volutamente neanche voluti vedere. Peccato, ero curioso di sapere. Mi viene sempre in mente Nobel, perché poi è l'invenzione della dinamite di Nobel, e lui proprio per scusarsi, perché lui l'aveva ideata per questo, per queste cose, e poi per scusarsi del danno che aveva fatto all'umanità tutta ha istituito il famoso premio Nobel. Magari questo non lo sapevate, è una curiosità che merita. Ogni volta che vedo un'esplosione invece calibrata, ragionata e non dovuta appunto a motivi bellici, mi torna in mente questa cosa, perché in effetti altrimenti sarebbe impossibile, non è che puoi andare con lo scalpellino a tirare giù pezzi uno alla volta, invece è giusta cosa. Vabbè, dai, non possiamo parlare tutto il tempo di questo, ma è affascinante. Se avete voglia andate anche comunque a vederlo, oltre che comunque l'avrete già visto sicuramente, perché è una bella cosa, molto cinematografica. L'altra volta avevamo parlato di queste case a un euro, come sono andate le case a un euro? Paolo, sta andando molto bene, anche troppo, dico anche troppo perché poi veramente quando uno si incanala in dei percorsi così mediatici, perché la risonanza di un progetto del genere è andata ben oltre le nostre aspettative, si porta dietro anche una difficoltà di gestione operativa. Cioè tipo un conto e dirlo, un conto e farlo. Da quando ci siamo visti qua, ad oggi sono arrivati un qualcosa come 5.000 manifestazioni di interesse. Il doppio dei cittadini kantianesi che in qualche modo o hanno telefonato, o hanno mandato una mail, o hanno partecipato poi ai bandi reali di assegnazione degli immobili. E quindi insomma capirai la fatica per un comune che ha ormai 12 dipendenti tra interni e esterni, anche a gestire, anche a rispondere a uno che chiama dall'altra parte del mondo. Esatto, perché ricordiamo che praticamente fa parte comunque di un piano non solo locale, ma comunque c'è un input nazionale, che è questo di mettere a disposizione di chi dimostra un interesse anche comunque supportato da una serie di dati oggettivi, perché ci vogliono anche delle caratteristiche, mettere a disposizione degli immobili a un euro, al costo simbolico di un euro. Esatto, è un'asta, quindi la base di partenza è un euro. Esatto, dopo è chiaro che può salire, eccetera. Questa idea che serve per richiamare l'attenzione su certi territori, ma anche concretamente per ripopolare certi territori e riportare su certi territori energie anche creative, perché poi chi decide magari di spostarsi dal Canada e venire a abitare a Cantiano vuol dire che insomma è fortemente motivato. Ho detto Canada per dire un nome qualunque, ma probabilmente ce ne saranno da tutto il mondo. Ecco, questo ripopolare di presenze, di energie e riqualificare è il tema che era stato portato avanti e proposto. Chiaramente con un'esplosione mediatica immediata. Esatto, ma anche con qualche risultato concreto, Paolo, perché poi con grande soddisfazione, perché poi ecco dal dire al fare come dicevi giustamente c'è di mezzo la burocrazia, perché siamo in Italia e quindi anche un'idea semplice come questo poi invece ha avuto delle sfacciuttature burocratiche enormi, i bandi di gare, la procedura di trasparenza, la rendita catastale degli immobili per le compravendite, gli atti notarie, le procure, cioè ragionamenti molto complicati. Per oggi possiamo dire che noi abbiamo già assegnato due immobili formalmente con un atto notarie. Poche settimane fa ho ricevuto la prima famiglia, la prima famiglia segnatale di un immobile che sta presentando il progetto di ristrutturazione, i coniugi James e Lamona sono due signori californiani, tra l'altro genitori di quattro ragazzi, di cui una di questi verrà ad abitare a Cantiano. Che spettacolo! E loro sono stati entusiasti, perché poi dietro la visita per ragioni tecniche legate all'immobile, loro sono stati qui 15 giorni sul paese muovendosi tra Urbino, Gubbio, Assisi, Centro Ippico, impianto di trotticoltura, pesca sportiva, Monte Catria, per loro è stata una vacanza nella vacanza. Ed è anche questa una riflessione che io, perché tanto abbiamo capito che noi dobbiamo inventarsi strategie nuove, di rilancio dei nostri borghi, le soluzioni che abbiamo messo in campo finora non hanno funzionato, non hanno arrestato quel declino demografico che purtroppo è simile a tanti borghi dell'entroterra. E vedevo con attenzione un'iniziativa, una start-up che è nata in Sicilia, a Sambuca, un altro comune che come noi ha lanciato questa progettualità, una start-up di ragazzi in cui un ragazzo, un tecnico, uno che fa marketing, un ragazzo che fa lingue, si sono messi insieme, ma hanno creato una start-up per accogliere e far visitare questi potenziali acquirenti e quindi oltre alla trattativa legata alla compravendita, quindi all'aspetto tecnico, vendono dei pacchetti promozionali. E' certo. E quindi magari invito qualche giovane volenteroso cantianese a lanciarsi su anche progettualità nuove, inventarsi nuove professioni, perché abbiamo visto la forza dei borghi, dell'entroterra, in una fase post-Covid in cui l'aria aperta, il green, piccoli borghi in cui il distanziamento sociale è naturale, stanno diventando e stanno suscitando un grosso interesse. Certo, bellissimo. Sono quelle cose che proprio nella loro semplicità, che non è semplicità, ma semplicità ideativa, e nel effetto che poi fanno sono entusiasmanti, aprono veramente tanto. Hai parlato dei cavalli, anche lì c'è una novità. Anche lì, guarda Paolo, la dico qui in anteprima, non l'ho detto finora, abbiamo lanciato un piccolo sondaggio in questi giorni. Il cavallo è per noi uno dei più grandi eventi, noi abbiamo tre grandi eventi che purtroppo ormai è due anni che sono fermi a causa Covid. Il primo è legato all'orgoglio e all'identità di Cantiano, che è la turba, è una sacra rappresentazione del Venerdì Santo, ma ha una sua connotazione e un suo pubblico di riferimento. Poi abbiamo due eventi promozionali, uno primaverile, che era la Piazza del Gusto, e quello invece autunnale, due domeniche di ottobre, quelle centrali, che lanciavano la promozione di questa nostra unicità, dico nostra, ma in realtà è della Regione Marche, perché è l'unica razza autotona della Regione Marche, ed è il cavallo del Catria, dall'omonimo massiccio in cui vive allo Stato Brado durante tutto l'arco dell'anno. Ecco, noi siamo ormai negli ultimi anni, abbiamo voluto fortemente investire su questa manifestazione, consci di questa nostra unicità, che diventa un fattore attrattivo unico a livello regionale. Quindi nel momento in cui tu proponi l'evento, non lo proponi similare a tanti altri eventi che possono caratterizzarsi, ma tu lo proponi come unicità. Ormai sul panorama nazionale Cantiano Fiera Cavalli è seconda solo a Verona, che è la più importante fiera internazionale del mondo equestre. E quindi forte di questa forza attrattiva e anche del dialogo che abbiamo intrapreso con la Regione Marche, che vorrebbe, nelle parole del Vicepresidente Carloni, entrare a far parte proprio come partner istituzionale nell'organizzazione dell'evento, tanta è la valenza territoriale dello stesso. Abbiamo pensato di poter utilizzare anche come unico grande evento di ripartenza nel 2022, crearne una versione primaverile che possa tirarsi dietro l'altro evento, quindi la Piazza del Gusto. Quindi Cantiano da promuoversi oltre che con la Turba, con questo unico grande evento nelle due sfaccettature, quindi primaverile e autunnale, che tramite il cavallo si porta dietro tutto un pezzo importante del nostro territorio, quello delle aree interne. Quindi le bellezze ambientali, paesaggistiche e tutto l'agroalimentare, i nostri prodotti tipici, che chiaramente fanno da contorno a questa nostra unicità. Verrebbe tutto spostato nell'evento primaverile o comunque manterrebbe le due date. Doppia data, doppio evento, uno primaverile, che tra l'altro coincidono con la salita e la discesa dei cavalli al monte, quindi dopo il periodo invernale i cavalli storicamente salgono per il pascolo estivo al monte e ritornano poi. Quindi noi li fotografiamo prima e dopo la parentesi del monte. Certo, e ovviamente l'evento prima ha una valenza potentissima per quanto riguarda lo sviluppo poi della stagione estiva, ma anche l'evento autunnale, perché poi non dimentichiamoci che se parliamo di Catria parliamo comunque di montagna invernale anche. Assolutamente, guarda, poi tra l'altro venivo stamattina e forse questo è l'autunno dove si disputa l'evento storico, è il periodo in cui il monte dà la sua massima espressione di bellezza, il fogliage, i colori autunnali sono qualcosa di unico. Quindi il monte è veramente la nostra cartolina, che sempre di più va valorizzata, perché poi Paolo, e io lo dico guardando con attenzione anche tutta la costa, gli amici pesaresi, noi viviamo oggi anche della riscoperta di un turismo di prossimità, che magari prima del Covid non era così scontato. Si snobbava un po', no? Ci andrò prima o poi, no? L'idea del viaggio, no? Magari prima di andare dietro l'angolo uno viaggiava nel mondo. Oggi invece le nostre bellezze vengono apprezzate soprattutto da chi magari è vicino, quindi in un'ora da Pesaro sei veramente in montagna, perché il Catria è una montagna di tutto rispetto. 1700, no? Sì, 1700. E quindi noi siamo attenti e spingiamo molto su questo anche idea del turismo di prossimità, di creare proprio dei weekend, creare delle opportunità di visita a pochi chilometri da casa, ma che comunque esprimono un qualcosa di unico e che non è trovabile da altre parti. Quindi il cavallo, ecco perché il cavallo secondo noi diventa un elemento distintivo e tramite quello essere attrattivi per la promozione di un intero territorio. Lì è importantissimo riuscire a offrire una proposta varia per quanto riguarda le strutture recettive, perché a me è capitato qualche giorno fa di fare una cosa legata alla poesia, e dico anche dove, nel comune di Frontino, e avevo un amico che ha detto, va bene, siccome questa cosa si svolge di domenica, io lunedì non devo lavorare, poi mi fermo qua, dormo qua e domani vado a fare un'escursione a piedi, eccetera. Però è importantissimo che ci siano strutture recettive pronte, sempre, perché poi quello è probabilmente il nodo, perché da una parte è vero che magari bisogna indurre le persone a questo turismo di prossimità, ma dall'altra poi bisogna essere pronti ad accogliere. Assolutamente, cioè quella cultura del turismo, nel senso che il turismo è un tema complicato in cui tutti sembrerebbe abbiano la soluzione in mano, mentre le sfaccettature sono tante, però io credo che prima di arrivare alla promozione va capita l'accoglienza, va creata nella cittadinanza, nelle strutture, una cultura dell'accoglienza, perché poi il turista si muove, però deve essere coccolato, accolto e io credo che pian piano però i nostri operatori si stiano abituando, perché chiaramente questo settore assieme all'enogastronomia sta diventando una fetta importante dell'economia cantianese e non solo. Dicevamo prima che io sto scoprendo, è uno dei regali che mi ha fatto Rossini TV quando mi ha affidato questa trasmissione attraverso tutti gli ospiti, sto scoprendo un territorio che mi piace sempre di più e soprattutto sto scoprendo chi questo territorio lo amministra. Vedo, lo dico spesso a costo di apparire eccessivamente anche romantico nella situazione, però vedo negli occhi di voi amministratori una luce che mi fa capire quanto voi siete comunque appassionati e affezionati al vostro territorio. Lo dico perché c'è il rischio però nel discorso di farsi prendere un po' troppo dal discorso turistico, cioè nel trovarsi a fare tutto per chi viene e dimenticarsi che invece questi comuni, questi spazi, questi territori, e qui ritorniamo quasi all'inizio della nostra chiacchierata, sono abitati da dei residenti che comunque lì vivono e non sono i custodi del parco giochi, ma sono delle persone che vivono e hanno una vita articolata anche su altri piani. Come vivono i tuoi cittadini? Come vivono i cantianesi? E tra l'altro Paolo bisogna ricordarsi e lavorare in maniera prioritaria per chi anima un territorio, perché poi il turista nel momento in cui visita un territorio ne percepisce anche l'umanità, la quotidianità e quindi l'anima del paese sono i suoi cittadini. Noi ci muoviamo sempre su due filoni, nel senso che è vero il guardare avanti le prospettive, il turismo ne è diventato ormai un elemento caratterizzante, però noi dobbiamo garantire un'alta qualità della vita ai cittadini cantiadesi. Ed è per questo che anche le azioni che abbiamo messo in campo credo che questi anni siano coerenti tra di loro, nel senso che abbiamo come pubblico introdotto dei meccanismi di valorizzazione di alcuni servizi senza tagli, senza ulteriori tassazioni, inventandosi soluzioni nuove che hanno portato risorse aggiuntive nelle casse del comune che hanno potuto essere riversate poi sui servizi alla comunità. Il welfare, il sociale per noi è un elemento caratterizzante, siamo tornati titolari di una farmacia comunale, siamo gestori di una casa di riposo che ha 84 posti per anziani. Io credo quindi che la sfida futura, oltre a quella del turismo, è anche quella di creare un paese ad alta vivibilità. Io credo che Cantiano possa giocarsene perché le qualità ambientali, le qualità agroalimentari unite a un livello alto di servizi alla persona, di assistenza alla persona, magari nella fase più avanti della sua vita, possano caratterizzare il paese. Ma non solo, perché guardiamo a tutto tondo l'economia del paese e proprio in questi giorni siamo stati anche reddici di un'operazione che credo che sia storica per la comunità e credo che da sola valga anche un mandato amministrativo, perché poi è più di un anno che ci stiamo dietro e riguarda un insediamento produttivo sul paese, perché non c'è solo welfare, non c'è solo turismo, ma c'è l'economia reale, c'è la manufattura e quindi siamo stati protagonisti in una mediazione a tre, da parte di un'azienda in liquidazione che vendeva e un imprenditore che aveva interesse invece di acquistare uno spazio per l'ampliamento della propria realtà produttiva. Il comune si è fatto mediatore nell'acquisto di una porzione di questo fabbricato che era troppo rispetto alle esigenze dell'imprenditore e quindi abbiamo chiuso questa operazione a tre che vedrà la bonifica di un capannone industriale alle porte del paese, un qualcosa come più di 3 mila metri quadri di superficie, più di un ettaro di superficie scoperta, vedrà una bonifica ambientale, il tetto purtroppo è d'Ethernet e quindi verrà sostituito con un impianto fotovoltaico, quindi energia pulita, ma la cosa importante è che vedrà un insediamento da parte di una realtà che è la CEB Impianti di Gubbio, una realtà novicina che conta più di 250 dipendenti e che su Cantiano aprirà un settore legato alle infrastrutture per la connettività, quindi un qualcosa di innovativo che avrà un ampio sviluppo e che possa portarsi dietro oltre a un impiego diretto di personale cantianese, più di 15 dipendenti già sono in forza rispetto a questa azienda, ma si porta dietro un indotto legato chiaramente a tutte quelle azioni di contorno, dalla ristorazione, dall'imprenditoria edile, impiantistica che muoverà, quindi credo che come pubblico abbiamo fatto più del nostro dovuto, perché crediamo fortemente che il pubblico non può da solo risolvere le sorti del proprio paese, perché l'economia è fatta di imprenditori, di idee brillanti, però può creare le condizioni al contorno. Una volta si sarebbe detto che già era molto non ostacolare, adesso bisogna addirittura favorire, perché è ora di favorire. Perché purtroppo la logica, io lo dico, lavoro sul privato, faccio il libro professionista, spesso a quel pubblico viene visto, come dicevi giustamente, non come un qualcuno che aiuta, ma qualcuno che ostacola. In questo caso il piccolo vanto di aver favorito questa operazione credo che potrà nel lungo periodo portare dei benefici diretti all'economia cantianese. Alessandro, ero sicuro che il tempo sarebbe volato, è letteralmente volato, abbiamo comunque parlato di tante cose e soprattutto abbiamo ancora una volta favorito questo entusiasmo che deve, secondo me, arrivare anche un po' lo scopo di questa impostazione che abbiamo dato alla nostra trasmissione, far conoscere bene anche nel momento più, meno istituzionale, ecco, nel momento più privato, nel momento più discorsivo, far conoscere i nostri amministratori che sono una ricchezza importante per il nostro territorio. Grazie, grazie ad Alessandro, sindaco, Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano. Torna a trovarci e a raccontarci come vanno le cose. Grazie a voi, è un piacere, non appena sarà possibile, molto volentieri. Grazie ai nostri telespettatori, l'appuntamento è a una prossima puntata di Casa Rossini, restate sempre con i programmi di Rossini TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.